Purtroppo il clima, potete soltanto immaginarlo, sono tutti abbastanza sconfortati, speriamo di ricaricare le batterie, non sappiamo come e quando, però qualcosa si deve pur fare, non possiamo arrenderci oggi. Allora io ti dico, i rumors che abbiamo captato noi sono che la società vuole cambiare, non so se tu ci puoi dire qualcosa in più. No, non vi posso dire qualcosa in più, anche se sapevo qualcosa in più non ve lo dicevo, sono onesto, quindi ve lo dico immediatamente. Sì, molto probabilmente quando succedono queste cose bisogna dare una scossa, se questa sia la mossa giusta io non lo so, perché faccio un altro tipo di lavoro. Chi è sopra di me evidentemente se sta facendo questo genere di valutazioni avrà fatto, sul piatto della bilancia avrà messo anche questo in considerazione, però al di là di quello che possa essere la guida tecnica, parliamoci chiaro, in campo ci si va con un altro atteggiamento. Ti chiedo una cosa Max, se hai sentito magari il presidente in queste fasi post partita? No, l'ho sentito prima perché come sapete oggi è il compleanno, purtroppo… Un compleanno amaro, gli facciamo gli auguri al presidente Sebastiani ma è un compleanno amaro. Purtroppo non c'è stato il regalo, anzi c'è stato un primo tempo da mettere, proprio veramente da buttare, qualcosa da recuperare nel secondo tempo, però ripeto, è poco, è poco. Ti chiedo un'ultima cosa Max, tu che vivi comunque la squadra quotidianamente, che ambiente vedi in settimana durante gli allenamenti? Perché è inspiegabile come dalla buona prova di Empoli si passa a questo primo tempo che era una fotocopia spiccicata della partita con la regina. Guarda tu eri con me ad Empoli, hai visto anche i ragazzi che salivano sull'autobus, hai visto che c'era proprio tutto un altro tipo di atteggiamento e questo atteggiamento lo sono portati anche per due o tre giorni, gli allenamenti sono belli intensi, belli carichi, non so cosa succede quando vengono in campo, forse la paura, forse la pressione di essere ultimi, non osano quel qualcosa in più che alla fine è l'unica strada per uscirne, perché se rimaniamo lì inermi non ne usciamo sicuramente, i ragazzi stanno bene in settimana, purtroppo ci sta domenica.